Barone Vassallo, siamo al 21 febbraio 2023, il giorno di carnevale. E noi di carnevalate, purtroppo nel senso lato negativo del termine, ne abbiamo viste e ne vediamo veramente tante. Ma siamo tutti concordi che per quanto un personaggio possa starci antipatico per delle sue convinzioni personali, utilizzare il razzismo, utilizzare l'omofobia, utilizzare delle accezioni molto pesanti, molto diciamo anche disumane, è naturalmente un grande errore. Sto per farvi vedere un personaggio, un personaggio che milita nella politica nel silenzio, ma quando parla ne dice molto, ne dice di molto pesanti. Questo uomo qui, senza capelli, si chiama Roberto Cingolani. Roberto Cingolani, perché ci interessa parlare di questa persona? Perché ha detto delle cose molto pesanti. C'è un video che voi potete trovare su YouTube. Io purtroppo non posso riportarlo qui perché sappiamo che prendono subito al balzo il fatto del copyright per bloccare il video e per bloccare il canale. E allora in questo video, e vi dico anche al minuto esatto, al minuto 6.39, il signor Roberto Cingolani afferma questo. L'essere umano è un parassita, perché consuma energia senza produrre nulla. Al minuto 15 l'apoteosi di quello che dice. Io posso distruggere qualsiasi cellula con un campo magnetico applicato alle nanoparticelle intelligenti, ossido di ferro, scaldando a 50 gradi con un campo magnetico esterno il tutto. Roberto Cingolani, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, è intervenuto in diretta streaming da Milano parlando di nanotecnologie per l'essere umano in occasione della sesta giornata della scienza dedicata agli studenti delle scuole superiori Unistin Day del 2014. Il signor Cingolani diceva queste parole nel 2014, parole che io direi molto gravi, molto gravi se associate a un personaggio che viene messo nelle decisioni dello Stato in una maniera alquanto importante. Ma andiamo a vedere chi è questo uomo. Nasce nel 1961. E' un fisico e dirigente di azienda italiano. E' stato direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia dal 2015 al 2019, quindi responsabile dell'innovazione tecnologica dell'azienda Leonardo sino al 2021, quando è stato nominato Ministro della Transizione Ecologica nel governo Draghi. Non a caso chi prende il comando di questo ministero assurdo, Transizione Ecologica, possiamo dire a tutti gli effetti che sono sempre personaggi che poi si rivelano molto molto negativi. Dal 23 ottobre 22 è consigliere per l'energia del governo Melodraghi. Figlio del fisico Aldo Cingolani, professore ordinario di fisica dell'Università di Bari, trascorre l'infanzia nel capoluogo pugliese. Nell'85 si laurea in fisica presso l'Università di Bari, dove nel novembre 88 ha conseguito anche il dottorato. Nel 90 si è perfezionata la scuola normale superiore di Pisa. Dall'88 al 91, madonna è che... Dall'88 al 91 è stato membro dello staff della società Max Prink di Stoccarda, in Germania, sotto la direzione del premio Nobel per la fisica Klitzing. Klaus von Klitzing Successivamente avrebbe dovuto trasfinirsi in via definitiva in Giappone per lavorare presso l'Università Imperiale di Tokyo, ma dovette tornare in Italia a causa della morte del padre. Dal 91 al 99 è stato prima ricercatore, poi professore associato di fisica generale, presso il Dipartimento di Scienze dei Materiali dell'Università di Salento. Dunque, nel 2001 ha lavorato come perito per la Procura di Roma, effettuando alcune perizie relative al caso di Marta Russo, e di una bomber. Dal dicembre 2005 è direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, da cui viene anche considerato una sorta di amministratore delegato. Insomma, ad aprile 2020 viene nominato direttore esecutivo nel Consiglio di Amministrazione della Ferrari, da cui si dimette il 16 febbraio 2021, a seguito della sua nomina a Ministro per l'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del governo Draghi. presta giuramento ed entra ufficialmente in carica il 13 febbraio 2021. Da ottobre 2023 è nel governo Melo Draghi. Allora, Roberto Cingolari che dice delle parole assurde, sostiene che il mondo è farto per soltanto 3 miliardi di persone, sostiene che aggiungendo un campo magnetico a delle nanotecnologie inserite nel corpo e portate a alte temperature, può uccidere le persone. e sostiene tutta una serie di tesi, vogliamo dirlo, una serie di tesi anti-uomo che in un paese normale non dovrebbero essere associate ad un ministro o comunque una persona che svolga delle mansioni statali. Invece abbiamo visto il governo Draghi, il governo Melo Draghi, il governo Conte, personaggi allucinanti, personaggi folli, personaggi che soltanto per le parole, per le blasfemie verso la vita, verso l'essere umano, verso quella che è la nostra civiltà, verso la nostra civiltà, Cingolani sostiene che l'uomo consuma senza produrre. Ma io, soltanto guardando fuori, soltanto guardando dove sono seduto, se tutto questo non lo avesse creato l'uomo, l'intelligenza dell'uomo, la laboriosità dell'uomo, noi vivremmo in un ambiente simile alla giungla, simile alla giungla, senza un tetto, senza riscaldamento, senza automobili, senza luce, senza vita, senza nulla, veramente allo stadio di scarafaggi, di insetti. probabilmente il loro punto di arrivo è proprio quello, proprio quello, emulare la vita e l'involuzione, o forse chiamiamola la non evoluzione di essere insetti. Veramente fa ribrezzo, fa ribrezzo tutto questo, mette i brividi, eppure questi personaggi sono ancora tra di noi e decidono per noi. ci vediamo domani, ciao a tutti.